Si pari o su per la meravigliosa bottega culturale di Jasmine Zecirai ad incontrarla all'interno di questo mondo, potremmo dire quasi dall'antico ed eterno odore, è stato il nostro direttore Riccardo Galatioto. Ascoltiamo l'intervista. Ci troviamo in una delle state più centrali di Alcamo, via Santissimo Salvatore. Entrando qui dentro abbiamo una cosa che ho notato, l'odore della carta antica, sinonimo di sapere, di cultura e di ciò che abbiamo come radici. Ho sempre chiesto che in questo posto quelli a parlare fossero i libri. Alcamo e anche i paesi limitrofi hanno collaborato a donazioni. Io avevo lanciato questa proposta, libri non vanno gettati, donati, messi in circolazione in modo virtuoso. Altri libri sono di mia proprietà, che metto a disposizione di chiunque abbia voglia di curiosare, di approfondire delle tematiche. Sono molte antologie. Ricordiamo una grande virtù dei uomini saggi di una volta, a volte anche agricoltori, per i propri figli comprandoli delle antologie. Una volta avevano un senso e un valore sociale. Credevo così tanto di donare ai figli piuttosto che soldi arte. Una bottega culturale, una bottega letteraria, cos'è? Colto in pieno l'idea mia iniziale. Infatti l'ambiente è proprio un richiamo a quel periodo rinascimentale. Omaggiare non solo la rinascita della letteratura in quei tempi, ma bensì un po' tutti i mestieri. Sto lanciando vari progetti, eventi nazionali che internazionali, promozione e la divulgazione dell'arte e della letteratura. I laboratori per i meno giovani e più giovani. Il weekend dove io sarò disponibilissima ad accoglierli. Faremo dei percorsi che nasca in loro l'amore per i libri, per come è stato per me, che iniziai a scrivere a otto anni. Quasi tutti noi siamo convinti che sappiamo leggere, ma non è così. Comprendere è quello che poi rende arte, perché comprendere quanto una parola può fare la differenza. Una bottega culturale dove venire, confrontarsi, condividere momenti di sapere, aggregazione. Convolgere più lettori possibile in varie workshop che sto organizzando, uno dei quali DIMMI. DIMMI è un concorso nazionale che accade in Sanuale ed ogni anno raccoglie le storie dei migrati, non solo immigrati in Italia, ma anche degli italiani immigrati all'estero. Non vuole sostituirsi alle biblioteche comunali. È un altro progetto culturale. Accolto proprio in pieno, perché io amo questo mondo qui, ma nasce anche dall'urgenza, che ritengo che oggi ci sia a livello sociale, di quello di avvicinare più ragazzi possibili, allontanandoli magari un po' da varie forme apatiche. Dagli apparecchi cellulari che fanno sì che sì, sono utili, ma non si comunica più neanche attorno a un tavolo. È proprio questo. Non sono contrario alla tecnologia. Farci anche apprezzare quanto è bello non essere così veloci nelle cose, nelle risposte, nei eventi giornalieri. Mi porti a riflettere che in una società fluida dove è come invitare chi ci guarda nel dire fermiamoci un attimo e riflettiamo da dove arriviamo e verso dove vogliamo andare, ma non farci vincere dalla tecnologia. Vengo dall'Albania, terra a me originaria e molto cara, ma ho dovuto ricominciare. Non è sempre una cosa negativa, il ricominciare può essere la cosa più bella. Resilienza. Resilienza e un rilancio, un riscatto. Ragazzi, dico sempre, c'è sempre tempo per tutto. Sabato 2 marzo siamo tutti uniti qua ad inaugurare intorno alle ore 18. Spero tanto che nascono nuove sinergie, ci sia un bel focus sulla cultura alcamese che merita Alcamo e la sua grande accoglienza.